Francesco Meleca, sono sei anni che è partito questo progetto molto importante per sensibilizzare i giovani sui principali temi dell'educazione stradale. Quanto è importante per lei essere qui nella Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso? Diciamo che per noi è importantissimo, siamo riusciti a trovare questo accordo con la Scuola Allievi e siamo molto orgogliosi di promuovere all'interno della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso il percorso di guida sicura ideato dall'Automobile Club Italia e quindi sono tre giorni di corso molto intensi che si svolgono in aula nella parte pratica e poi nella parte teorica quindi con la guida diretta all'interno delle auto, ci sono i nostri istruttori di Vallelunga e quindi è un corso completo che si sviluppa proprio per far imparare agli allievi che sono poi le persone che controllano nelle nostre strade tutti gli elementi della guida sicura, quindi guida in emergenza, guida sul bagnato, guida sullo sterrato quali sono le dinamiche dei nuovi sistemi di sicurezza, quindi importantissimo. Noi come Automobile Club facciamo questa cosa proprio perché essendo esperti della guida sicura promuoviamo sulle forze dell'ordine nel nostro territorio la sicurezza stradale quindi lo facciamo molto volentieri soprattutto quando ci troviamo nelle condizioni che una bellissima caserma come questa di Campobasso ci ospita il progetto prende la sua parte migliore. Questi sono progetti importantissimi non solo per le forze armate che poi si trovano giustamente a dover far rispettare queste regole sulla strada ma sono importanti per tutti i giovani che spesso appunto quando prendono la patente, quindi 18 anni, sono forse anche troppo superficiali sulla strada. Assolutamente sì, noi come Automobile Club abbiamo proprio questa mission istituzionale io personalmente come direttore dell'Automobile Club Molise faccio tantissimi corsi nelle scuole a tutti i livelli quindi a iniziare dalle scuole elementari, scuole medie, scuole superiori noi abbiamo elaborato con il MIUR dei format di educazione stradale che vanno proprio a cercare di coinvolgere tutti quanti i ragazzi nella loro età, nelle fasce di età più piccole proprio perché abbiamo capito dalle nostre esperienze che è necessario far crescere delle nuove generazioni di utenti della strada che siano in grado di seguire le regole perché comunque le statistiche ci dicono che gli incidenti si diminuiscono seguendo le regole e soprattutto cercando di conoscere bene quali sono i rischi sulla strada. Diciamo che la strada è una bellissima cosa per tutti noi, possiamo guidare, raggiungere posti, fare turismo ma lo dobbiamo fare in assoluta sicurezza e quindi queste nozioni che noi diamo nei nostri corsi sono fondamentali. Questo progetto ha visto i ragazzi impegnati per quattro giornate sia con la teoria che con la pratica ci vuole raccontare in maniera più dettagliata che cosa è successo in questi quattro giorni? Sì assolutamente, allora il corso prevede come dicevamo queste due fasce quindi c'è una prima area di due ore, due ore e mezza circa in cui si parla di tutta quanta la parte pratica e teorica e quindi praticamente si insegnano tutti quanti gli elementi necessari per la guida tra l'altro il codice della strada è in continua evoluzione quindi esistono nuove normative noi cerchiamo di spiegare quelle regole che sembrano banali quanto sono importanti con delle dimostrazioni pratiche, con slide, con video, con situazioni di emergenza che fanno capire esattamente quali sono i rischi banalmente qual è il rischio di non mettersi una cintura che cosa succede quando c'è un incidente e abbiamo sperimentato che facendo vedere queste cose direttamente così anche se tutti le sappiamo la percezione cambia la percezione dei rischi e del pericolo cambia poi c'è la parte che si svolge sull'auto e quindi lì i nostri istruttori di lunga che sono i istruttori certificati fanno verificare proprio esattamente cosa succede a un'auto quando si mettono in moto dei meccanismi come si utilizzano i nuovi meccanismi di emergenza che sono gli ADAS e tutte quante le strutture, l'ABS che cosa vuol dire perché abbiamo notato che molte persone hanno sentito ma in realtà non hanno ben capito quale è il significato e noi glielo dimostriamo sul campo quindi teorie e pratiche insieme alla fine si ottiene il risultato perfetto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti